Il patto di stabilità e il rapporto col governo, l'invito già accolto al nuovo governatore del Veneto, Luca Zaia, per un faccia a faccia. Questi temi discussi oggi dal consiglio direttivo dell'Anci Veneto, l'Associazione dei Comuni. Tra i consiglieri il sindaco di Este, preoccupato della situazione che stanno vivendo ogni giorno, i suoi quasi 500 colleghi veneti. Noi diamo allo Stato 42 milioni di euro di IRPEF, ne portiamo a casa 3 milioni. Il resto resta allo Stato, questa è la realtà di un comune come Este. I comuni sono spreconi e quindi si può andare a tirare sempre la cinghia dei comuni perché tanto sono quelli che sprecano di più. Io ritengo che non sia corretto e non sia vero perché il comune è l'ente più vicino al cittadino. Il cittadino ti controlla tutti i giorni. Quanto al federalismo la legge esiste già, ora servono i decreti delegati, almeno 4 immediatamente per allinearsi con gli altri paesi avanzati. Tagliare va bene ma ora si rischia di non erogare più servizi ai cittadini. 500 sindaci della Lombardia sono già scesi in piazza la settimana scorsa. Entro giugno anche i colleghi veneti sono pronti a fare altrettanto se non ci saranno risposte concrete. Il Veneto, come dire, si sentono i tamburi che stanno battendo sempre più forte. Ho parlato qualche minuto fa con il presidente Chiamparino, fine mese avremo un direttivo nazionale. Da lì la decisione comunque a questo punto non si sfugge da un confronto serrato con l'area di governo. Il 2011 sarà terribile, se noi non riusciamo a risolvere queste tematiche, quindi rendere le mani libere o un po' più libere ai sindaci, i bilanci del 2011 saranno fallimentari. Lanci ha lanciato anche la campagna del 5 per 1000, ovvero fondi da destinare da parte dei cittadini al proprio comune direttamente nella dichiarazione dei redditi. Grazie. Grazie. Grazie.